Il biadepiato infantile è un'anomalia non congenita ma acquisita, un'anomalia biomeccanica che nell'infanzia è molto frequente e quasi tutti i bambini fino a una certa età hanno delle difficoltà ad avere una volta plantare ben formata, non è un problema da gestire in età infantile ma va seguito nel tempo ed è possibile effettuare anche poi una correzione. L'anomalia risiede nell'anomalia dell'articolazione sottoastragalica che richiederà poi una correzione eventualmente chirurgica mentre una correzione con le ortesi, le cosiddette solette, può essere un coadiuvante quando ci sono dei dolori e il bambino non è ancora abbastanza grande.